Per tutto il 2019 la Toscana sarà l'epicentro delle celebrazioni iniziate già nel 2018 dedicate a Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte del genio, artista, inventore, pittore e scopritore. Vinci, sua città natale, è protagonista del ricchissimo calendario di eventi dedicato appunto alla Toscana di Leonardo che la regione ha costruito. Un anno per scoprire il vero volto di Leonardo ripulendolo da leggende e false notizie. Che valore ha questo anniversario per la Toscana? Ha un valore importantissimo e un valore che abbiamo voluto legare al tema di un recupero di conoscenza su che cosa è stato Leonardo e che cosa ha rappresentato per i tantissimi settori della scienza e dell'arte di cui lui si è occupato. E quindi abbiamo voluto costruire insieme agli enti locali e alle altre istituzioni culturali che appunto avevano intenzione di lavorare su questo tema e costruire una progettualità per questo anno. Abbiamo voluto lavorare con loro per costruire un programma unitario e per poter presentare al mondo un programma unitario sulle manifestazioni, sulle celebrazioni che si svolgeranno in Toscana nel 2019 e avranno appunto come oggetto Leonardo e la Toscana, la Toscana di Leonardo. La costruzione del calendario di eventi ha richiesto un lavoro di mesi da parte della Regione che ha destinato alle iniziative leonardiane 150.000 euro. Mostre, conferenze, spettacoli e itinerari dedicate a Leonardo sono stati inseriti in un programma unico che unisce sia le iniziative sostenute direttamente dalla Regione che quelle proposte dai singoli comuni toscani. L'obiettivo è quello di far conoscere a tutti, ma proprio tutti, la figura di Leonardo. Abbiamo costruito appunto un sito anche per permettere sia ai nostri cittadini prima di tutto ma anche ai turisti che vorranno venire in Toscana di conoscere quelle che sono appunto tutte le manifestazioni di vario tipo si va dalle mostre, alle conferenze, agli incontri che appunto avranno come oggetto la figura di Leonardo. Iniziative per pubblici diversi, per esperti ma anche per persone che si vogliono avvicinare al di là diciamo dell'alone di mistero e di mistero e anche di notizie un po' false che ha sempre circondato la figura di Leonardo ma anche tante iniziative anche per i bambini. La Regione ha svolto un ruolo centrale di coordinamento nella realizzazione del calendario attivando anche un tavolo interistituzionale che ha coinvolto i soggetti interessati e i comuni da nord a sud della Toscana. La Regione Toscana ha coordinato un tavolo con tutti gli enti locali appunto e gli altri soggetti che erano interessati a costruire un programma, un programma leonardiano. E poi ha anche sostenuto appunto attraverso un bando alcune progettualità, quelle progettualità appunto che erano quelle più rappresentative di un panorama. Da considerare appunto che tutto il programma della Regione è stato inserito all'interno del calendario più ampio che è quello delle celebrazioni e delle celebrazioni nazionali. Comune denominatore di tutti gli eventi in programma, da Vinci a Firenze, da Sansepolcro all'Empolese, solo per citare alcuni dei luoghi coinvolti nelle celebrazioni, è l'offerta di percorsi che permettano di conoscere Leonardo nella sua Toscana, nel contesto in cui è nato e ha lavorato e non solo nei comuni definiti leonardiani per valorizzarne gli aspetti storici, ambientali e culturali. La nostra idea è stata quella proprio di ricreare un contesto, un contesto appunto nel quale Leonardo ha operato e nel quale ha lasciato moltissime tracce. Cioè andare alla ricerca di queste tracce, recuperarle e su queste costruire una riflessione e anche itinerari unitari appunto che fossero diciamo prima di tutto mirati a conoscere e a far conoscere questa grandissima nostra personalità. Le celebrazioni leonardiane nel 2019 vedono la Toscana al centro del mondo e hanno anche una dimensione internazionale grazie al protocollo d'intesa siglato con la regione francese Centre Val-de-Loire perché è lì ad Amboise che Leonardo morì, un progetto di collaborazione per valorizzare e promuovere i rispettivi territori attraverso cultura, turismo e ricerca. Abbiamo siglato da qualche mese un protocollo con la regione Centre Val-de-Loire perché prima di tutto vogliamo condividere con loro questo programma di celebrazioni leonardiane per il 2019 e quindi diciamo siamo sempre vicendevolmente presenti quando ci sono occasioni di presentazione. siamo stati nella Loira, loro saranno, erano con noi a Vinci quando abbiamo fatto la prima presentazione, saranno appunto con noi alla Bit di Milano perché insomma ci piaceva anche che questo itinerario leonardiano fosse un itinerario che andava oltre i nostri confini e appunto anche in Francia dove Leonardo ha passato gli ultimi anni della sua vita. Una collaborazione internazionale che non si limita al presente ma che ha l'obiettivo di consolidarsi nel tempo. Queste celebrazioni leonardiane sono solo una prima tappa di una collaborazione e insomma stiamo già lavorando perché la collaborazione non sia limitata semplicemente al 2019 ma vada oltre almeno su tre temi importanti che sono appunto il tema della cultura e già insomma stiamo facendo, stiamo predisponendo un piano operativo per il 2020 quindi la cultura, il turismo e la ricerca. E a proposito di ricerca, in onore al genio di Leonardo da Vinci, la Toscana promuove anche assegni di alta formazione grazie a un bando in collaborazione con università, enti di ricerca e operatori della filiera culturale in linea con un percorso già avviato. Sono già quasi tre anni che alcuni ragazzi stanno lavorando anche per incrementare diciamo una parte del programma, della programmazione per il 2019 e appunto in questo 2019 si potranno dare i primi risultati dei loro lavori. E poi ora c'è questo bando appunto sul rapporto fra le istituzioni culturali e la ricerca e insomma quale bando migliore in cui poter candidare anche progetti che hanno a che fare con Leonardo. Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo hanno proprio l'obiettivo di rinnovare l'interesse per i luoghi e la figura dell'artista e inventore per stimolare la ricerca e la creatività soprattutto dei giovani e aprire nuove opportunità per lo sviluppo del territorio. Tutte le iniziative che abbiamo inserito nel programma sono iniziative che non hanno proprio niente di quest'idea di svendita, anzi sono tutte iniziative che hanno come obiettivo la conoscenza e l'approfondimento e io credo che la strada sia questa.